Non siamo mica una caserma, le manifestazioni si va, nelle piazze ci si sta, il problema è che quando tu hai responsabilità di governo, il tuo problema fondamentale non è tanto quello di stare nelle piazze, quanto quello di risolvere i problemi che le piazze ti pongono. I primi provvedimenti, il blocco dell'IMU, l'intervento sulla cassa integrazione e per i precari vanno esattamente in questa direzione.